Ciao amici di MyFootballJersey, io sono Stefano e oggi vi presento la terza maglia del Bayern Monaco per la stagione 21-22 nella versione Authentic o Player, quella cioè indossata dai calciatori. La tradizione incontra la modernità ai piedi delle Alpi. E' questo lo slogan con cui Adidas e Bayern Monaco hanno presentato la terza maglia per la stagione 2021-2022. La nuova Jersey prende ispirazione dalla natura e dalle montagne che circondano Monaco di Baviera, ricreando con una grafica sublimata la silhouette dei monti e scegliendo cromaticamente un mix di bianco e azzurro chiaro che unito al rosso di sponsor e stripes creano un effetto simile a quello visto sulla maglia del Ajax per la stagione scorsa. Ancora una volta il Bayern Monaco ha deciso di rendere omaggio alle proprie radici, esaltando a livello globale la componente local del club. Ma le montagne riportate sulla maglia sono anche una forma di allegoria per la squadra, una motivazione in più a puntare in alto e raggiungere nuove cime sempre più alte. Gli accenti sulle maniche e sul colletto sono blu scuro. Non può mancare il moto simbolo dei tedeschi, Mia San Mia, che da stagioni accompagna le nuove maglie della squadra tedesca più vincente della storia. Super! La definizione giusta è super. Questa maglia è bellissima e la mia classifica prende 5 stelle e peraltro fatta veramente molto bene, quasi incredibile al prezzo in cui si trova sul sito che trovate qui in descrizione. Ora se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione player o authentic, quella indossata dai calciatori.